Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Roberto Saviano, bentornato. Abbiamo un cambio, una staffetta. Allora, in libreria con noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento e la vita dei boss. È già un bestseller dal 24 al 29 settembre. Sarà il Bellini di Napoli con Sanghe e Napoli. Senti, che impressione ti ha fatto Salvini? Mi ha fatto impressione, come si dice a Napoli. Già di per sé. Perché? Perché ha mentito. Ha mentito su qualsiasi cosa. Ha raccontato che l'ONG è andata in giro a raccogliere clandestini. In realtà l'ONG è un'ambulanza del mare, open arms, su cui io sono stato, quando è venuto a Napoli. E ha soccorso naufraghi. Però sai cosa? Tu già la prendi da una parte, secondo me, diversa da quella a cui lui pensa. Tu vai sui contenuti. Là l'effetto che fa. Sì. Che effetto fa? E perché vuole fare questo effetto? Ma sta facendo innanzitutto torto alla sua parte politica. Facendo credere ai leghisti che questo sia un modo davvero reale per fermare l'immigrazione clandestina. Una messa in scena assoluta. Non è che tenendo circa 150 persone su una nave, bloccate, stai fermando l'immigrazione clandestina. È solo propaganda. Però è il concetto politico, no? Salvini ti ha querelato, di nuovo. Un'altra volta, te l'ho portata io. Una nuova querela, diciamo, fresca, la seconda. Per un post dove avevo ricordato che Salvini mente su Caro Larachete. Quando aveva detto che aveva speronato, quando aveva detto che si era comportata in maniera criminale. Perché poi i giudici hanno archiviato dicendo che non ha speronato nessuno doveva solo arrivare. Assolutamente non ha speronato. E solo propaganda. Tu però gli hai detto che il ministro è la malavita. Certo, lo ribadisco. Citando Gaetano Salvemini. Cioè? E cioè colui che, cito Gaetano Salvemini, che definì Giolitti, non è comparabile il personaggio con Salvini, ma in quell'occasione racconta di un politico che sfrutta l'ansia di giustizia, in realtà per fare cumulo di voti, semplicemente vendendo il figlio. Però, Giorgia Meloni, molti dicono, beh, Salvini ora cerca di lavorare per mangiare consensi anche a Giorgia Meloni, che deve in qualche modo sembrare sia moderata, sia radicale. Però Giorgia Meloni l'ha difeso. L'ha difeso lei, il governo. Hanno detto che questi sono i giudici che hanno in mente una cospirazione, fanno parte di una visione del mondo di sinistra per attaccare noi di destra. Quello è stato un posto drammatico per me. Nel senso che è l'inizio della democratura. Una cornice democratica dentro un atteggiamento del governo sempre più autoritario. Un'intimidazione. La stessa procura che aveva ricevuto il plauso per l'arresto di Messina Denaro, adesso riceve questo tipo di pressione enorme. Salvini era consapevole di stare violando i trattati internazionali e i diritti umani. Cita la Costituzione, comunque. Ma non è di fare la Costituzione, però là si riferisce addirittura all'esercizio. Lui era convinto che non sarebbe andato a processo. Lui contava sulla protezione del Parlamento. Senti, ti riporto sulla democratura. Il potere politico che fa pressione sulla magistratura. Fa pressione, secondo molti osservatori, anche sull'informazione. Guarda come ha reagito il CDR, il sindacato Iran News 24, al modo in cui è stato trasmesso integralmente il video di Salvini. Quasi quattro minuti di monologo sul processo Open Arms presi dai social del ministro Salvini. Ancora una volta il nostro canale è usato come megafono per le dichiarazioni di un membro di primo piano del governo. Ancora una volta saltate le regole del buon giornalismo e il lavoro di mediazione di un'intera redazione. Che succede in Rai? È un'occupazione. Io ho avuto la mia trasmissione bloccata per un anno. Le persone sanno esattamente chi è stato messo ai vertici, cioè i famigli del governo, la pressione che viene fatta sui giornalisti, anche giornalisti non scelti da loro. E allora guarda cos'altro è successo in Rai, guarda le lacrime di San Giuliano. Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie. Poi chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo. Che detti sei fatto per il caso Boccia? Riguardo l'aspetto, diciamo, privato, devo dire che la versione, anzi, di San Giuliano queer, mi sento di sottoscriverla, nel senso che lì non c'è stato nessun errore da parte sua. Ama quanto puoi, ama più che puoi. Da sempre la battaglia mia con Michela Murgia. Abbiamo sempre, anzi, avremmo quindi semmai difeso l'aspetto queer di San Giuliano. Ma a parte questa nota, non c'entra niente il gossip, non c'entra niente la questione personale, non c'entra niente fidanzamenti e legami sentimentali. Lì c'è una dinamica probabilmente da fare. È una congettura che ho, non so se ti interessa sapere la mia congettura, ma semplicemente lì con quella consulenza era stata data la possibilità di poter gestire in un certo modo l'evento di Pompei, verso alcune aziende, verso alcuni mondi. Quando tu dai un incarico a una consulente o a un consulente, ha una visione su come organizzare quell'evento. E' arrivato qualcun altro da Roma, è arrivata un'altra famiglia da Roma, a dire quella gestione di Pompei non la vogliamo, vogliamo la nostra gestione di Pompei. Tu sai qual è la famiglia? Immagino che sia la famiglia Meloni. Arianna Meloni. Certo. Immagino, ripeto una congettura. Cioè tu dici, mi spiego questa cosa, sei uno dei più importanti romanzieri anche di questa realtà. Quindi dice, conosco bene quella terra di Pompei. Allora tu dici, non è tanto l'aspetto gossip. Non c'entra niente. E' che quella consulenza è una rappresentanza di interessi. Esatto. Nel momento in cui ti rivolgi a quella rappresentanza di interessi, no, la bypassi perché arrivano gli interessi di Arianna Meloni e Lollo Brigida e dicono, questa diciamo è una tua ipotesi. Sì, la mia congettura rispetto agli elementi che ho trovato in campo è che la cancellazione non c'entra niente con affari di cuore che ovviamente sono di un'altra dimensione. C'entrano invece con la gestione politica. Cioè c'è una cancellazione perché c'è stata la cancellazione di una gestione in una direzione che stava andando in una direzione dell'evento a Pompei perché altri dovevano mettere le mani sulla gestione completa di quella situazione. Allora, ci saranno reazioni a questa tua congettura anche perché decisamente non ti amano, vecchi e nuovi. Guardiamo Saviano negli occhi del governo. Saviano è uno scrittore mediocre, un uomo antipatico che conduce una vita infelice. Un bacione a Saviano. Sto lavorando insieme agli uomini del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato anche a una revisione dei criteri per le scorte. Puoi dire io con te non ci parlo. Dove fare un tardo Saviano che mi dà della razzista tutte le settimane ma ogni volta mi ho chiesto di fare un confronto pubblico sull'immigrazione è scappato. Su Saviano mi ha particolarmente turbato il fatto che lui potesse pensare, siccome è amico della sinistra e siccome quando parla di mafia accusa sempre solo il centrodestra di poter dire tutto quello che vuole le istituzioni perché tanto è intoccabile. Anche stavolta. No vedi, abbiamo preso molto sottogamba per anni. Hai visto nel 2021, nel 2020. Iniziamo con un neoministro poi. Quindi tu sai già cosa pensai del Ministro della Cultura. Neanche se insediato già hai un'idea di... Abbiamo preso sottogamba perché abbiamo creduto che fosse legittimo che un potere politico, potere politico significa anche quando è all'opposizione, potesse bersagliare un intellettuale, mettergli il mirino addosso, massacrarlo, tenerlo sulle pagine dei loro giornali. Se io ti attacco, il festival poi ti inviterà serenamente? Il teatro? L'editore? Tu? Quando chiami il nemico del governo... Se io chiamo Saviano ho già preso una posizione, sto già contro di te. E quindi cerco di non farlo ascoltare. Il loro obiettivo è veramente molto preciso. Siccome sull'argomento... E l'ultimo passaggio è interessante. Sic Donzelli, mi sono... Donzelli. Siccome sull'argomento mafie lo ascoltano, i nostri lo ascoltano, il rischio è che poi anche quando parla di tutto il resto sia ascoltato. L'obiettivo deve essere no, dire ai nostri che è un charlatano, che è un buffone. Perché altrimenti quando viene ascoltato sulla questione criminale e quindi riceve dai nostri, se io parlassi soltanto ai miei non sarebbe un problema, quando dai nostri riceve ascolto, poi lo ascoltano anche sull'ONG, lo ascoltano anche sull'immigrazione. Allora va bruciato in toto. E va portato in tribunale. Perché la questione è questa. Cioè anche il passaggio di dire puoi dire quello che vuoi. Certo, sul potere politico si può, perché il potere politico ha lo... Non soprattutto ha la protezione del Parlamento, ma ha lo strumento di risposta. Se mi porti in tribunale è un'intimidazione. Del resto il loro modello è Orban, che fa esattamente così, non su tutte le critiche. Siamo lontani dal meccanismo della Gestapo o della Stasi, figuriamoci. Non ti vengono di notte per ora in casa. Assolutamente. Prendono 10-15 persone. Quel produttore, quello scrittore, quell'attore, quello sportivo, e lo bersagliano. Così che tutti gli altri, e la lezione servita, iniziano a fare un passo indietro. L'effetto domino. L'amichettismo. Tu sei un intellettuale amico della sinistra, dice Donzelli. C'è un gruppo di... L'abbiamo sentito, lo risentiremo. C'è una teoria che dice che c'è un gruppo di persone, tutte collegate, dalla sinistra, dall'essere di una parte politica, che mira a smontare il governo. Invece arriva alla destra e si torna al merito, si torna alle nomine fatte per competenza, si torna all'apertura dei ruoli, anche e soprattutto nella cultura. Ma iniziamo dall'economia. Ha fatto molto scalpore il presidente, amministratore delegato di Ales, Società, il Ministero e la Cultura, che ha parlato così dopo la sua nomina da parte, tra l'altro, dell'ex ministro San Giuliano. Ascoltiamolo Tagliaferri. A livello di cultura, quali sono le sue competenze? Perché mi risulta che lei gestisce un autoloneggio. Non ci vogliono 3 mila dipendenti per poter gestire un'azienda da 3 mila di dipendenti. È sufficiente avere un'azienda con dei dipendenti. Io ne ho avuti 10, 5, 7, a seconda dei periodi. Io ho il mito di Giorgio Milone. Cioè io mi passo le giornate a vedere i video. A me Giorgio insegna. Cioè l'altro giorno il video di Basovizza, io me lo sono visto delle volte. Tu non l'hai mai fatto quei video degli Ellis Line. Allora, premessa. Vi dico un amico della sinistra. Non ho mai avuto trasmissioni della sinistra, non ho mai avuto incarichi della sinistra, non ho mai avuto fondazioni, progetti di giornale. Ma se tu dovessi individuare una tua formazione politica, di cultura politica, non di militanza partitica. Sì, per riferimento al Partito d'Azione, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, i fratelli Rosselli, il socialismo liberale. Io mi sono formato così sempre. Perché si rivolgono ai loro amici, non ai loro amici. Qui non c'è neanche una visione. Loro non sono riusciti a costruire l'egemonia culturale. L'egemonia culturale non si genera con l'imposizione mettendo parenti e amici, ma cercando di far vincere una visione politica e ideologica nella dialettica, nel dibattito, nella costruzione di cose. Non è che la mostra sul povero Tolkien di cui si sono appropriati o le cose che fanno insomma dei riferimenti possono essere sufficienti a creare l'egemonia. Alla fine cosa si riduce? Cugini, amici, famigli. Cioè la scelta non è in base neanche all'idea. Non è che questo, questa persona è stata scelta e noi stiamo contestando perché è una visione conservatrice. No, perché semplicemente senza alcuna competenza amico della famiglia Meloni, della famiglia, l'Italia resta un paese, Guicciardini, di contrade e di famiglie, non di idee, non di fazioni. Roberto Samiano, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. In Bocca al Lupo.